buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di io non mi rassegno puntata quella di oggi in cui tiriamo un po il respiro e rivolgiamo l'attenzione da un'altra parte rispetto al tema coronavirus che sta monopolizzando tutti i giornali del mondo praticamente e anche in parte questa rassegna e parliamo del mess il meccanismo europeo di stabilità e di come mai fa tanto discutere del perché doveva essere prevista ieri l'approvazione delle modifiche al mess che però è saltata quindi parliamo anche del perché è saltata di cosa prevedevano queste modifiche e alla fine anche un po più in generale di questa crisi economica finanziaria dovuta al coronavirus e delle opportunità che si c'erano dentro di essa per cui guardate la fine alla fine perché potrebbe essere interessante prima di parlare del mess però piccola nota su defender europe 2020 argomento caldo di questi giorni su questa rubrica che è stato ufficialmente annullato era l'esercitazione degli militari americani sul suolo europeo era previsto l'arrivo di questi 30 mila soldati americani per questa max esercitazione è stata annullata proprio per via del covid 19 è stata una decisione presa dal segretario della difesa statunitense che è stata resa nota ieri attraverso una nota appunto dalla US Army Europe che spiega appunto che è stato già dal 13 marzo quindi già da qualche giorno fa è stato bloccato l'invio dei nuovi militari americani che si sarebbero dovuti aggiungere a quelli già presenti sul suolo europeo sono state annullate tutte le principali esercitazioni per i militari che sono già qua sono previste alcune operazioni minori e poi tutti torneranno fondamentalmente negli negli stati uniti va bene parentesi chiusa mess ieri era il 16 gennaio ed era prevista nel all'interno del gruppo ecofin l'approvazione delle modifiche al meccanismo europeo di stabilità approvazione che però è saltata visto che i governi fra cui alcuni governi quelli quelli più scettici fondamentalmente tra cui il governo italiano non avevano avuto il tempo di discutere con l'interno dei propri parlamenti di in maniera adeguata di queste modifiche proprio per via dell'emergenza coronavirus ma che cos'è il mess allora il mess appunto meccanismo europeo di stabilità è un'organizzazione quindi non è un trattato è un'organizzazione che intergovernativa che dovrebbe servire a garantire la stabilità dell'europa della zona euro dal punto di vista economico finanziario è una sorta di fondo monetario internazionale però europeo per intenderci il mess serve ad aiutare i paesi dell'area euro che affrontano una crisi economica e finanziaria quindi se c'è un paese in crisi il mess diciamo è l'organizzazione a cui rivolgersi e lo fai mettendo prestiti e acquistando titoli di stato sul mercato primario quindi direttamente dai paesi che li mettono diciamo che è stato il primo strumento di stabilità economica vero e proprio perché ce n'erano degli altri prima ma meno forti di cui si è dotata l'unione europea che ogni anno i paesi dell'unione anzi dell'area euro finanziano in maniera proporzionale al loro peso economico la grandezza della loro economia fondamentalmente allora la parte controversa della cosa però che è stata un po' controversa fin dall'inizio sono le condizioni molto severe per ricevere gli aiuti perché per ricevere gli aiuti uno stato deve accettare un piano di riforme e accettare anche che ci siano la famosissima troica quindi la banca centrale commissione europea e fondamentale internazionale a sorvegliare sull'applicazione di queste riforme riforme che in genere prevedono misure molto impopolari tipo il taglio alla spesa pubblica il taglio alle pensioni un piano di privatizzazioni liberalizzazioni e più flessibilità sul mercato del lavoro e cose di questo genere allo scopo di rendere per così dire più sostenibili diciamo i conti pubblici fino ad oggi considerate che ad usufruire dell'aiuto del messo sono stati la grecia cipro portogallo e irlanda allora questo è come è adesso cosa prevede questa nuova riforma diciamo che in generale rende più difficili gli aiuti perché pone una clausola a monte vuol dire che gli aiuti standard chiamati precauzionali sono ammissibili secondo questa nuova riforma solo verso gli stati paesi che non hanno squilibri macroeconomici e hanno un debito pubblico sostenibile sostenibile in base a alcuni criteri previsti dal fiscal compact insomma quindi però diciamo che fondamentalmente senza andare troppo nei dettagli esclude dalla possibilità di accedere a questi aiuti più della metà dei paesi europei e soprattutto cosa ancora più assurda esclude proprio quei paesi che a livello probabilistico ne avrebbero più bisogno quindi le economie più indebitate più deboli più soggette a una possibile crisi però c'è una postilla nel senso che per gli stati che non rientrano in quelle condizioni perché ecco come funzionava prima prima funzionava che si chiedevano gli aiuti il mess aiutava gli stati e dopo parallelamente li aiutava anche a ristrutturare il proprio debito a fare delle riforme insomma strutturali per migliorare i loro conti pubblici riforme abbastanza discusse e discutibili intendiamoci adesso però esclude proprio a monte la possibilità di aiutare degli stati che non siano già in partenza in linea con alcuni standard molto alti quindi rende tutto più difficile c'è una postilla dicevamo per gli stati che non rientrano in quelle condizioni c'è una clausola inserita in un allegato che prevede delle condizioni avanzate più avanzate per la concessione del credito ma anche in questo caso anche se non è detto così chiaramente solo via una preventiva ristrutturazione del debito e dei conti dello stato che vuol dire che anche se i tuoi conti non sono in regola anche se il tuo debito non rispetta il fiscal compact tu puoi chiedere gli aiuti ma io te li do solo dopo che hai ristrutturato il debito e quindi c'è un primo intervento questo diciamo probabilmente funziona così nel senso sono comunque c'è una sottile linea interpretativa perché il trattato non è le modifiche non sono chiarissime su questi punti però è come probabilmente dovrebbe funzionare c'è un primo intervento ad esempio di ristrutturazione del debito dopodiché viene emesso il credito scusate se sono un po tecnico però è difficile non esserlo su temi così specifici allora per facilitare questa cosa per rendere più snello questo processo di ristrutturazione del debito nella riforma viene inserito anche l'obbligo di emettere dei titoli di stato chiamati single limb cac che cac probabilmente però mi fa ridere perché come dice il nome stesso e lacronico sono dei titoli un po di cac per chi li acquista perché sono dei titoli che sono molto più facili da da ristrutturare essi stessi vuol dire che è possibile che una parte di essi non venga ripagati che una parte degli interessi non venga ripagati ripagati e questo ovviamente rende più semplice quando ce n'è bisogno ristrutturare il debito nel suo complesso i che sulla carta intendiamoci è anche una cosa interessante anche una cosa potenzialmente buona però la paura di alcuni paesi tipo l'italia è che a questo punto per questi titoli gli interessi sul debito salgano alle stelle quindi che debbano pagare interessi altissimi su questi titoli perché gli investitori non si fidano a comprarli perché sanno che soprattutto su stati come l'italia in cui è possibile che ci sia una ristrutturazione del debito questi titoli potrebbero perdere buona parte del loro valore va bene allora scusate sono andato un po sul tecnico spero di non avermi annoiato troppo e spero di essere stato chiaro non ne sono sicuro se avete dubbi chiedetemi le domande però lasciatemi dire l'ultimo punto della riforma è quello meno dibattuto ma forse è quello più sostanziale e poi facciamo qualche considerazione finale e abbiamo finito ne parla un articolo su Milano Finanza che non posso linkarvi perché è sul cartaceo allora non scendo in tecnicismi ma fatto sta che la riforma introduce anche un sistema in cui diventa molto più facile ricapitalizzare le banche in maniera diretta quindi senza passare dagli stati prima il MES aiutava gli stati che aiutavano le loro banche ma così facendo si indebitavano ulteriormente adesso il MES attraverso alcuni passaggi aiuta direttamente le banche e fra l'altro senza prevedere tutte le condizioni difficili che prima abbiamo visto prevede invece per gli stati insomma il fondo salva stati con questa riforma si trasforma un po in un fondo salva banche e questo non perché ci sono i banchieri cattivi che si vogliono arricchire quindi uccidiamoli tutti e liberiamoci di loro ma perché probabilmente la stabilità del sistema bancario europeo traballa e fa una certa paura probabilmente fa più paura dell'instabilità degli stati nel senso che un crollo delle banche tedesche potrebbe tirar giù la baracca molto più velocemente di una crisi del debito italiana per farla semplice ora però se questo è il punto e se è così importante stabilizzare il sistema perché hanno rimandato alla discussione a data da destinarsi perché è vero che c'è una crisi ma se questa è una cosa così fondamentale forse aveva senso farlo lo stesso in realtà perché su questo tema il cigno nero del coronavirus ha cambiato completamente le carte in tavola il MES ha una capacità di credito di spesa di circa 6 700 miliardi di euro l'italia da sola per far ripartire l'economia dopo che tutto si è fermato in questi giorni necessiterebbe già da sola quella cifra più o meno la germania ha previsto aiuti per 550 miliardi di dollari mentre la fed americana ha annunciato tassi zero e un quantità di vising quindi un'immissione di liquidità di 700 miliardi di dollari in questa circostanza in cui tutte le economie europee tutti i paesi europei necessitano di aiuti allo stesso tempo il MES diventa piuttosto insignificante e l'unico organismo che può veramente fare qualcosa per risollevare la situazione è la banca centrale europea a sua volta con un quantità di vising senza precedenti quindi immettendo pompando un sacco di liquidità nel sistema ma c'è un'ultima considerazione che secondo me una considerazione mia che mi sembra particolarmente importante l'economia del mondo si è fermata i mercati crollano tante cose cambieranno e sono destinate a cambiare quando questa emergenza finirà come dicevamo prima per far ripartire tutto l'ingranaggio servirà a pompare dentro soldi tanti soldi dentro il sistema economico mondiale ed è in realtà un'occasione incredibile per indirizzarli nella direzione di una transizione ecologica nel senso che se prima stavamo correndo verso un muro adesso perlomeno abbiamo rallentato non dico che ci siamo fermati ma abbiamo molto rallentato e si capisce che è più facile cambiare direzione quando siamo fermi piuttosto che quando si corre a 300 chilometri all'ora e i soldi che verranno compatti nel sistema potrebbero in qualche modo essere condizionati cioè spingere l'intero sistema in una direzione diversa ed è un'occasione unica non so se ce ne saranno altre quindi non lo so facciamo che ci proviamo a cogliere al volo che ne dici mondo va bene io anche per oggi vi saluto vi do appuntamento domani con una nuova puntata di un mi rassegno sempre 10 sempre 10 minuti e vi ricordo come ogni giorno che chi si rassegna è perduto ciao